La strategia l'ho spiegata prima, è una squadra che comunque domina il gioco, una squadra che attacca con tantissimi giocatori perché a parte i quattro offensivi spingono molto con i terzini, addirittura si butta a volte il centrocampista centrale. Noi con ordine e pazienza dobbiamo essere bravi a coprire bene il campo, a far sì che gli avversari ci sbattano addosso per creare le condizioni poi di ripartire e questa squadra, la mia squadra, quando riparte dà fastidio a molti. L'abbiamo visto a Milano, l'abbiamo visto anche nell'ultima mezz'ora col Parma dove si sono create le condizioni per poter andare in vantaggio, non siamo riusciti a concretizzare ma penso che anche chi vede giocare il Chievo qualche preoccupazione ce l'abbia e secondo me la possiamo creare anche al Napoli. Ho un grande ammirazione per Benitez perché è partito dalla Spagna, è andato in Inghilterra, ha fatto delle cose straordinarie a Liverpool comunque è stato all'Inter e ha vinto in sei mesi in un momento molto particolare che sarebbe stato difficile per qualsiasi tecnico di grande valore in quel momento sostituire un idolo come era stato Mourinho però lui in quei sei mesi comunque ha vinto la Supercoppa, la Coppa Intercontinentale e ha lasciato perché forse non c'erano le condizioni per andare avanti, ha allenato comunque il Chelsea adesso è al Napoli e si vede per me un profilo di un alleatore internazionale che è un manager, ha una grande capacità dal punto di vista tattico e anche nella scelta dei giocatori che siano funzionali a un'idea di calcio. Sicuramente un centrocampo con Ilners e Maelio è un centrocampo completo perché comunque hanno capacità di inserimento e di gestione della palla e sono molto bravi anche dal punto di vista difensivo. Giorgino corre molto ma è un giocatore dal punto di vista prettamente qualitativo magari al passaggio più immediato, all'imbucata più facile e dunque un ragazzo che ho visto anch'io crescere vedendolo giocare nel Verona che si è meritato questa grande chance e di conseguenza è un pericolo in più sicuramente. Io penso che in questo momento questa squadra debba imparare a giocare con due punte e in questo momento il sistema più giusto per farle giocare è quello che stiamo sviluppando. Poi nella lettura durante la gara o in situazioni particolari se è una cosa che si può riproporre e però poi dipenderà molto che tipo di sviluppo avranno questi ultimi dieci giorni per capire a chi arriverà, per trovare comunque un modulo base per poi sviluppare l'adattamento in determinate situazioni. Vediamo un po' anche da quello che succederà in questi dieci giorni. Il nostro 483 era molto difficile da affrontare ma in Serie A quando poi cominciano a capire le contromosse, le contromisure devi avere la capacità di variare il gioco e rischiavamo di diventare magari prevedibili e secondo me giocare con due punte perché Alberto tra l'altro è cresciuto molto e mi attacca alla profondità, lavorare nelle zone di confine con Terò attaccare con gli esterni abbiamo creato per me tante situazioni se uno va a contestualizzare le prestazioni sinceramente fai fatica a pensare che questa squadra non abbia ancora vinto una gara perché comunque a Torino l'avevamo incanalata nella maniera giusta col Parma le situazioni erano state importanti a Milano hai creato le condizioni per portare a casa un punto importante e anche lì hai avuto la sensazione che potessi in un certo momento la serpresa poterla andare addirittura a vincere e dunque come vi ho sempre detto io i moduli sono importanti ma sono importanti in principi come affronti le squadre quello che sento io, che la squadra mi trasmette in questo momento per me la scelta più opportuna e una responsabilità mia è questa